Una bella collaborazione tra Anfas e Teleton che ha dato i suoi risultati. Sì, una bella collaborazione, una collaborazione che Anfas nazionale insieme a Teleton a livello nazionale è partita da 4 anni, quest'anno un anno significativo perché sul manifesto di Teleton quest'anno c'era il nostro Presidente nazionale insieme a una persona con disabilità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quest'anno è stata valorizzata proprio questa collaborazione perché la presenza sui manifesti di Roberto Speziale e Presidente nazionale rappresenta tutta l'Anfas. Perché questo? Perché noi crediamo in particolare come Anfas proprio nel discorso della ricerca, della ricerca sulle malattie genetiche, della ricerca scientifica, sulla disabilità intellettiva. Questi anni qualcosa si è fatto, non si è fatto tanto perché è un argomento molto complesso e molto complicato, specialmente pensiamo alle malattie rare, alle malattie genetiche. Si sta sviluppando, si sta lavorando, stiamo lavorando anche a livello di Anfas, un esempio per tutti è sull'autismo dove veramente sono cominciate delle iniziative veramente scientifiche, veramente di valore e noi come Anfas e Teleton vogliamo potenziare al massimo queste cose qua. Perché per Anfas, per le nostre famiglie, per le nostre persone con disabilità, gli anni a venire, specialmente per i bambini, per i più piccoli, devono essere anni di speranza perché con la ricerca si possa veramente cambiare qualcosa, trovare delle soluzioni che a oggi non si sono ancora trovate. Noi ci contiamo, ce la mettiamo tutta e credo che tutta la società ce la deva mettere tutta perché più facciamo attività su persone precocemente, addirittura dalla nascita e più abbiamo possibilità di capire e di curare e di migliorare queste situazioni sempre difficili e sempre complesse. A livello cittadino, quindi a Rivarolo, come è andata la raccolta? Direi che la raccolta sarà molto bene, abbiamo raccolto circa 2.500 euro che con i tempi d'oggi sono importanti, periodo natalizio, periodo di generosità da parte delle persone ma anche di competitività con tante iniziative, benefiche e di bisogni. Percianto è un segnale forte, forte di quello che i cittadini e le persone credono nella ricerca di Teleton, nella raccolta di Teleton insieme ad Amazon ma di Teleton in particolare. Ma una cosa che mi piace dire è che comunque il territorio rivarolese, il territorio del Canavisano, ma rivarolese è sempre molto generoso, è molto attento alle iniziative sociali e anche culturali che ci sono in questo territorio. Credo che dobbiamo sviluppare maggiormente, ci impegneremo insieme all'amministrazione comunale a sviluppare negli anni futuri, ma la base di partenza qui a Rivarolo è sempre notevole. Un grazie a tutti!